Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un altro generale del Reggio Esercito, questa biografia mi è stata chiesta da un iscritto, e ho piacere perché appunto me ne sono occupato in maniera articolata, parleremo di Mario Roatta, un generale che ha ricoperto incarichi molto molto rilevanti in tutti i livelli delle girarchie del Reggio Esercito italiano, che è un uomo molto controverso, che ci sono state addebitate una serie di malefatte, di crimini, di omissioni nella sua carriera militare, e che a onor del vero non ha mai avuto l'onere di pagare, di rendere conto delle sue azioni, se non sotto l'aspetto penale, quantomeno sotto l'aspetto morale, quindi questo va chiarito sin da subito. Per introdurre il personaggio Mario Roatta, io vi vorrei leggere un commento di Francesco Saverio Grazioli, Francesco Saverio Grazioli, in generale molto molto idotto, molto acuto nelle sue valutazioni, nelle sue considerazioni dei propri colleghi e non solo. Credo che salendo nei gradi e nelle responsabilità, molto gli abbiano conosciuto alcune debolezze di carattere, e l'ambizione forse eccessiva. Ho l'impressione che si sia rivelato opportunista, conformista, troppo preoccupato della popolarità. Secondo me Grazioli, da estremo signore quale era, è stato anche troppo generoso nei confronti di Mario Roatta. Mario Roatta nacque nel 1887 a Modena. Era figlio di un capitano piemontese dell'armata sarda, e anche lui decise di intraprendere la carriera militare proprio a Modena, nella sua città natale, frequentando la scuola militare. Divenne quindi nel 1904 sottotenente di fanteria e iniziò il suo percorso. come appunto ufficiale di fanteria. Tra l'altro ebbe modo di conoscere, sin dall'inizio della propria carriera, un giovane, quasi suo coetaneo, Rodolfo Graziani. Rodolfo Graziani proveniva da una realtà completamente diversa, era un ufficiale di complemento raffermato, con un tipo di anche estrazione socio-economica leggermente diversa, però ebbero questo primo contatto, che poi sarebbe proseguito a distanza di quasi 40 anni, visto che sarebbero stati all'inizio, nella prima parte della Seconda Guerra Mondiale, Graziani, capo di Stato Maggiore dell'esercito, e Roatta, sotto capo di Stato Maggiore. Ma tornando alla carriera di Roatta, Roatta iniziò una serie di percorsi, di esperienze, come comandi, nei comandi dei varie unità, lotone, compagnia, e frequentando le canoniche scuole, i periodi di istruzione per un ufficiale avviato a una florida carriera, come anche un ufficiale di Stato Maggiore, e arrivò alla Prima Guerra Mondiale con molte speranze, molte anche opportunità per una persona indubbiamente di valore, come lo era a livello tecnico. durante la Prima Guerra Mondiale ottenne, tra l'altro, tre medaglie d'argento al valor militare, tutta una serie di riconoscimenti, tra l'altro anche delle onorificenze francesi, visto che nell'ultimo anno, nel 1918, egli partecipò con il corpo di spedizione, il corpo d'armata inviato sul fronte francese, appunto come collaborazione rispetto all'alleanza con la Francia e la Gran Bretagna. E Roat aveva, nel frattempo, collezionato una serie anche di promozioni, era arrivato al grado di tenente colonnello, quindi riuscendo anche con una notevole capacità di comando, con disprezzo del pericolo, tant'è che poi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, iniziò anche a collezionare una serie di esperienze di tipo diplomatico. Fu mandato prima a Berlino, poi a Parigi alla Conferenza della Pace, per arrivare nella metà degli anni Venti, un periodo molto interessante, molto anche articolato, come ha detto militare a Varzavia. Esperienza che lo mise a contatto sia con la realtà polacca, in sinergia in quel momento, ma anche negli anni a venire, con la realtà francese, che appunto erano anche a seguito degli effetti della piccola intesa, quindi quella strana alleanza che legava i paesi dell'Europa orientale con la Francia in funzione antitidesca, ma lo stesso Ratta poi ebbe l'occasione di avere contatti con anche i paesi baltici, visto il consigliato che la pertinenza dell'addetto militare a Varzavia aveva appunto competenze anche per tutta l'area del Mar Baltico. Questa esperienza, che nel frattempo lo aveva portato alla promozione a colonnello, lo fece arrivare nella prima metà degli anni 30 allo Stato Maggiore dell'Esercito e nello specifico venne nominato capo del Servizio Informazione Militare. Il Servizio Informazione Militare che aveva avuto negli anni, soprattutto negli anni 20, una notevole implementazione, uno sviluppo molto interessante sotto l'aspetto di capillarità anche nella zona danubbiano-palcanica, ma non solo nel Mediterraneo, quindi aveva tutto un discorso di attività sia nel settore attivo ma anche nel settore passivo di controspionaggio. E Roata, da questo punto di vista, una persona molto intraprendente, molto anche senza scrupoli, riuscì con capacità non indifferente a migliorare il servizio e rendere, da questo punto di vista, anche più intrigante il servizio che da tecnico divenne appunto spionistico nel senso anche negativo del termine, con l'utilizzo anche di personale femminile per un discorso di capacità persuasive, di capacità per la ricezione di informazioni e questa capacità di intrigo sarebbe stata anche sua congeniale negli anni a venire. Su questo periodo si può poi subito passare a quello successivo in cui nel 1936 venne individuato come responsabile prima delle relazioni e poi di un comando militare più organico della spedizione italiana in Spagna. Nel 1936 inizia appunto la guerra di Spagna, la guerra civile spagnola e Mussolini ha interesse a inviare un corpo di spedizione, appunto quello che sarebbe stato poi il CTV, il corpo di truppe volontarie che doveva in qualche modo tenere a bada Franco, le truppe di Franco per avere un modo per avere un pegno di gratitudine, una capacità anche al di là del mar Tirreno, quindi diciamo dei confini mediterranei propri dell'Italia. E anche qui Roatta alternò capacità di indubbio valore militare a capacità di intrigo. Tra l'altro un elemento ancora non del tutto chiarito fu il suo possibile contatto con il servizio informazioni che era ancora in Italia, quindi nonostante egli avesse ceduto il comando formale al connello Angioi da questo punto di vista sembra che le sue attività di competenza sul servizio informazioni militari fosse ancora pertinente. Tant'è che questo elemento lo portarono negli anni a seguire a ricevere degli addebiti di implicazione soprattutto anche come mandante di esecuzioni politiche nei confronti degli antifascisti esuli all'estero, più con specie i fratelli Rosselli. L'attività in Spagna ebbe degli sviluppi molto interessanti fino alla battaglia di Guadalajara del marzo del 1937 questo sconfitta portò un po' il corpo di truppe volontaria ad essere dimensionato quindi venne implementato venne sostituito il comandante arrivò a Bastio e quindi Roatta ebbe un ruolo relativamente marginale che però comunque proseguì con grandi onori e grandi anche ricompense che venne poi promosso generale prima di brigata e poi di divisione. Tornò in Italia nella fine del 1938 per essere poi mandato l'anno successivo come addetto militare a Berlino. Siamo nel periodo del 1939 dal patto d'acciaio fino ad arrivare all'effettiva dichiarazione di guerra tedesca nei confronti della Polonia però in questo ambito Roatta non sembra molto attivo nel senso nel comprendere una possibile collaborazione con i tedeschi tant'è che nelle relazioni che gli manda a Roma non sembra avere tutta quella cognizione di causa nelle tecniche nei voleri nelle esperienze che i tedeschi stanno maturando in tutto un certo discorso bellico e presente e futuro. Sa di fatto che poi Berlino torna in Italia e alla fine del 1939 viene nominato sotto capo di stato maggiore dell'esercito sotto capo di Graziani e qui passa un semestre diciamo il primo semestre del 1940 in cui lui è sotto capo di Graziani e quindi gestisce in maniera abbastanza relativa la preparazione per quanto possa possibile dell'entrata in guerra diciamo a fasi molto dilatate dell'ingresso dell'Italia in guerra ma la cosa più importante è il secondo semestre del 1940 in cui Graziani è impegnato in Libia è stato nominato comandante delle forze armate dello scacchiere del nord Africa e di conseguenza lascia in maniera interinale lo stato maggiore dell'esercito a Roatta come sotto capo e da questo punto di vista Roatta crea una sorta di alternativa a Graziani e quindi da questo punto di vista percorre un discorso anche di poca collaborazione con lo stesso Graziani in Libia invece cercando di valutare tutte le possibili scorciatoie di catiera ma anche tutte le possibili convenienze politico-militari che gli vengono offerte visto che nel secondo semestre del 1940 i voleri di Mussolini sono molto molto dilatati e molto assecondabili e gestibili in maniera opportunista e quindi si arriverà appunto alla disgrazia della Grecia e tutta una serie di vicissitudini che appunto dalla seconda metà del 1940 e anche la prima parte del 1941 vedono i rovesci militari per l'Italia un po' in tutte le latitudini da questo punto vista questa sua attività di intrigo di sostituzione a Graziani anche appunto senza un rispetto istituzionale verso il suo superiore di diretto lo portò appunto nel marzo del 1941 a prendere il suo posto divenne capo di stato maggiore dell'esercito e passò un altro anno come titolarità dello stato maggiore dell'esercito bisogna dire che in questo periodo era molto chiacchierato anche la moglie erano molto chiacchierati su delle spese su delle attività poco poco in linea con lo stato di guerra allora vigente però era congeniale al suo tipo di modus operandi sta di fatto che la situazione rimase imperturbata fino ai primi del 1942 quando la coabitazione con Cavallero che nel frattempo era stato già da circa un anno ed era tornato soprattutto dall'Albania con il suo impegno principale capo di stato maggiore generale e di conseguenza il rapporto tra Cavallero e Roatta era abbastanza di attrito e di conseguenza Cavallero sostanzialmente mandò Roatta come comandante della seconda armata in Jugoslavia e quindi passò un secondo periodo bellico di Roatta più operativo più vicino al combattimento effettivo dai primi mesi dal febbraio circa del 1942 fino all'anno successivo ai primi del 1943 in cui Roatta fu appunto comandante dell'armata di tutte le truppe che erano stanziate negli ex territori jugoslavi che ormai erano frazionati insieme anche ai tedeschi e ai croati e diciamo che qui proseguì la sua nomea di carnefice di poco di poco poco umano nelle sue diciamo questa è una letteratura ormai molto molto ampia non c'è qui da da soffermarsi molto sull'attività di Roatta su tutta la serie anche di circolari che gli ha prodotto nel rendere l'attività italiana molto brutale molto molto appunto cattiva se possiamo dire nei confronti della della popolazione anche locale quindi tutto un discorso che lo avrebbe poi negli anni diciamo portato avanti con degli strasci appunto giudiziari effettivi o mancati il periodo poi proseguì nel 1943 con il ritorno in Italia e un periodo appunto il primo semestre grosso modo primo semestre del del 43 come comandante della sesta armata in Sicilia in previsione di un possibile sbarco degli alleati pure qui non è che fece molto nel senso che sì le possibilità non erano tante però non ci si sforzò neanche troppo tant'è che pronto quando nel primo il primo luglio del 43 divenne capo di stato maggiore dell'esercito e Guzzoni fu nominato capo di stato comandante della sesta armata e poi ci fu lo sbarco effettivo negli angoli americani in Sicilia Roatta diciamo biasimò molto guzzoni dell'inoperosità dell'incapacità di quell'armata di opporsi agli angloamericani quando in realtà fino a poche settimane prima era lui il titolare di quella di quell'armata passa il 25 luglio passa l'8 settembre e la situazione di Roatta è molto indistinta segue un po' le correnti un po' segue un po' le vicissitudini molto altalenanti e molto contraddittorie della politica militare del paese fino al punto all'abbandono nella mattina del 9 di settembre insieme a tutta la cerchia di autorità politico-militare che lasciano Roma per andare in Puglia e da questo punto di vista nascono anche delle critiche delle accuse nei confronti di Roatta nell'incapacità di organizzare di lasciare va via senza lasciare un apparato adeguato per la difesa di Roma il preo successivo rimane abbastanza indistinto anche perché arrivato in Puglia dopo pochi mesi fa poche settimane in realtà viene esautorato dal suo incarico e viene quindi addebitato tutta quella serie di crimini di omissioni di incompetenze di incapacità di manchevolezze che avevano caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera sta di fatto che nel 1945 per una malattia era stato ricoverato e riuscì a fuggire da questo ospedale un po' improvvisato anche sembra attraverso delle compiacenze delle autorità che lo stavano controllando e quindi riparò prima in Vaticano e poi in Spagna dove entrambi le nazioni degli stati aveva delle simpatie se non delle clemenze non indifferenti rispetto alle sue manchevolezze e quindi attese l'iter benevolo l'etilitene di perdono anche legato alle amnistie politiche che nel frattempo si erano susseguite e quindi anche in questo senso le accuse in contumacia che gli erano state rivolte a decaddero grossomodo una dopo l'altra quindi rientrò in Italia con una sorta di verginità aveva pubblicato anche un paio di libri molto autoassolitori in cui cercava di accusare gli altri delle manchevolezze che invece molte attribuivano a lui e morì serenamente a Roma a casa sua senza aver dato conto di nulla delle sue attività io vi ringrazio forse sono stato troppo schematico troppo asciutto però in pochi minuti questo è il massimo che sono potuto riuscire a sintetizzarvi quindi se avete poi interesse ci sono biografie oltre a quella che ho scritto io e quindi potete bene avere sareste edotti di altre attività io vi ringrazio ancora vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima